può prendere una parola per fare l'intervento. Grazie. Assolutamente. Mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Condivido il mio schermo. Sì. Innanzitutto grazie di questo invito, assolutamente graditissimo e grazie degli interventi precedenti perché hanno detto delle cose estremamente valide che penso troveranno una parte di spiegazione anche quello che dirò io. Non so se la mia presentazione si vede. Sì, sì, si vede. Provo a lanciarla in presentazione. Ecco. Ripeto, grazie di questo invito e lo scopo di questa presentazione è mostrare cosa stiamo facendo di Leonardo per adattarsi a queste nuove regole che stanno nascendo e che sono estremamente importanti ed estremamente, diciamo, da esplorare in quanto tutti i messaggi che si sono stati dati da Fabio e da Carmela sono assolutamente veri, ma è anche vero che nell'industria noi dobbiamo assolutamente essere assolutamente certi che alla fine la sicurezza è in ogni caso il driver del nostro futuro. Quindi queste nuove regole che sono state emendate, che sono state ratificate sulla certificazione di tutte le organizzazioni a part 21 e dell'introduzione del safety management system in ciascuna di queste organizzazioni sono veramente qualcosa di estremamente innovativo, qualcosa che ci dà un potenziale estremamente nuovo e totalmente da esplorare, in quanto se riusciamo a connettere questi safety management il network di competenze e di capacità che queste organizzazioni ci permetteranno di esplorare sarà immenso e sarà capace veramente di rivoluzionare l'approccio alla safety, saranno capaci di fare quello che Fabio Nicolai ovviamente aveva suggerito e Carmela, cambiare la mentalità completamente di chi lavoro nell'ambito aeronautico per diventare veramente un operatore di safety e naturalmente questo cambiamento è stato percepito in Leonardo, è stato percepito già dal 2018 e il messaggio che noi abbiamo dovuto esplorare all'interno della nostra azienda era come gestire questo cambiamento, come gestire l'opportunità che questo cambiamento ci sta fornendo di legare queste entità che nasceranno. Per questo nel 2019 è stata creata la funzione di safety system governance che aveva lo scopo proprio di creare la metodologia con cui interfacciare e attuare all'interno della nostra azienda i sistemi di governance per la sicurezza e all'interno di questa safety system governance a cui ho avuto l'onore di essere chiamato alla creazione esistono tutti i perimetri della safety, quelli interne, esterna e la safety che chiamiamo statutory quindi di relazioni con tutti gli stakeholder esterni. Quindi all'interno dell'organizzazione che vi mostro come struttura esistono dei pilastri interni che servono a interfacciare le funzioni interne dell'azienda ma allo stesso modo esistono dei network di safety che devono interfacciarsi col mondo esterno delle autorità, dei nostri operatori, dei nostri competitors e un network di competenze interno invece quindi relativo a tutte le aree funzionali della nostra azienda. La safety governance ha il compito di dare delle regole precise, di istituire un funzionamento classico e condiviso per tutti i sistemi di sicurezza che vedremo tra un attimo intendiamo mettere in piedi e di portare, di sintetizzare verso il vertice aziendale tutti i messaggi importanti anche se volete deboli, cioè messaggi che il sistema ci sta fornendo che come Fabio diceva possono essere molto evidenti come quelli che Fabio ha mostrato ma possono essere nascosti nelle pieghe del lavoro quotidiano ed è compito dell'SSG sintetizzarli per portarli in evidenza al vertice aziendale. Il primo compito... Vediamo sempre la prima slide noi, siamo fermi la prima. Ah sì, strano, io sono già avanti. Aspetta, provo allora a condividere, a interrompere la condivisione e a presentare solo la presentazione, scusatemi. Essere a livello di Fabio Lannoni è un onore per me. No, 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 è reciproco, è totalmente reciproco, è totalmente reciproco Fabio. Sono sentito così povero in Riva quando non riuscivo a condividere, se c'è avuto mezzo problema pure te significa che pure io ho qualche possibilità nella mia vita. Comunque siamo in campo di Fabio, se ti può consolare. Ho fatto bene io a non presentare, a parlare. Sapete già come sarebbe andata a finire. Vedete la mia seconda slide adesso? Prego, geniore, grazie. Sì, 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 però non è lanciata in modalità presentazione però. Esatto, non la lancio in modalità presentazione perché probabilmente qualcosa va male. Adesso vedi la terza. La quarta, la quarta, perfetto, esatto. Allora siamo, la lascio in modalità standard. Ok. Si vede che non funziona la condivisione dello schermo quando siamo in presentazione. Il primo scopo che la Safety System Governance ha avuto nell'azienda è stata quella di creare il modello con cui vogliamo operare e naturalmente come sia Carmela che Fabio ci hanno ricordato la realtà del mondo aeronautico è estremamente complessa e la realtà di Leonardo all'interno del mondo del mondo aeronautico è complessa. All'interno della nostra azienda esistono tutti i mondi della cultura aeronautica. dalla disegnazione alla progettazione, al manufacturing, alle vendite, al supporto del prodotto, al training e quindi ovviamente il nostro modello operativo è stato basato su questa complessità. e abbiamo creato qualcosa che pensiamo sia suitable, adatto a questa complessità. Quindi non abbiamo pensato di realizzare un singolo Safety Management System ma un network, un ambiente operativo di Safety Management System calando all'interno di ciascuna struttura funzionale dell'azienda un Safety Management System dedicato. Perché? Perché creando questi Safety Management System annidati all'interno della struttura della funzione si porta la competenza della Safety vicino all'operatività del giorno, si fa in modo che il management come Fabio ci ricordava fortemente sia coinvolto pienamente nella gestione di questo importantissimo aspetto del nostro lavoro e la capacità di analizzare i problemi garantita dalla presenza operativa di persone all'interno della funzione permette l'esplorazione del rischio e la risoluzione del rischio in maniera molto più rapida e coerente. Naturalmente questi sistemi avranno bisogno per operare insieme di una governance ed è per questo che è stata creata la mia funzione che deve dare regole uniche, modalità operative, strumenti unici a tutti i sistemi e deve poi aiutare il sistema a percepire le reali informazioni importanti per sintetizzarle e portarle fino al livello del nostro Managing Director. Infatti la struttura con cui noi operiamo, stiamo già operando e stiamo cominciando a mettere in piedi e basata su una funzione di integrazione svolta dalla SSG che partendo dal nucleo primario di ogni Safety Management System e quindi dalle operazioni interne a ciascuno di questi SMS locali sintetizza sia a livello di governance, quindi di board di tutti i direttori di funzione dell'azienda le problematiche e chiaramente in questo livello di Safety Governance Review noi sviluppiamo anche le interrelazioni interne alle varie funzioni quindi tutto il mondo che interlaccia le funzioni di ciascuna delle branche operative dell'azienda fino a sintetizzare in meeting dedicati, quelli che chiamiamo Safety Steady Committee tutti i problemi che invece hanno bisogno di essere portati fino all'attenzione del nostro Managing Director. quindi la funzione di integrazione dell'SSG è partecipare a tutti questi step di creazione della informazione per sintetizzarla, aiutare il sistema funzionale delle funzioni aziendali a lavorare insieme e ottenere poi dal nostro Managing Director che poi è l'Accountable Manager per la Safety di tutta l'azienda le direttive per procedere con i miglioramenti e i cambiamenti necessari sulla base di ciò che abbiamo identificato. Dal punto di vista della gestione, della creazione degli SMS locali direi che siamo stati assolutamente a quello che la norma e che il comune senso pratico suggerisce. All'interno di ogni SMS esisterà quindi un Safety Manager che disponderà direttamente all'Accountable Manager della funzione, si avvarrà di Safety Specialists che lo aiutano nell'esecuzione quotidiana dei compiti a lui delegati ma ovviamente si appoggerà ad esperti che abbiamo chiamato Safety Officers che risiederanno all'interno delle singole attività operative della funzione. Nella complessità del nostro sistema noi abbiamo anche disponibilità poi di Subject Matter Expert quindi le aree tecniche specialistiche di ogni singola funzione offriranno al Safety Manager e al Safety Management System tutte le necessità di risorse per esplorare il problema gestire l'attività di miglioramento e di mitigazione che eventualmente sarà definita e portarla in esecuzione. L'altra parte importantissima come Carmela ci ricordava, la parte di compliance è assolutamente parte funzionale di ogni SMS. All'interno quindi dell'SMS in piena collaborazione proprio nell'ottica di quel management system di cui discutevamo all'inizio, anche la parte di compliance è presente e opera in piena sinergia con il Safety Manager e con l'Accountable Manager. Un'altra, la nostra realtà Leonardo è estremamente complessa. Ciascuna delle nostre funzioni è anche dislocata in varie aree internazionali, in varie aree geografiche. Ricordiamo appunto dall'Inghilterra, la Polonia, all'America e per esempio la nostra Training Academy ha diagrammazioni sia nel mondo americano che nel mondo della Malesia che nel mondo dell'Inghilterra e della Polonia. Per cui abbiamo anche identificato una figura di Safety Manager Representative che collocato all'interno delle realtà geograficamente dislocate possa svolgere in autonomia ma ovviamente in piena sinergia le funzioni di rappresentante del Safety Manager nella realtà locale per coglierne tutte le evoluzioni e le difficoltà. Quindi una struttura abbastanza convenzionale di funzionamento dell'SMS appoggiata poi a processi, come vedete sulla parte di destra di questa slide, processi standardizzati che ovviamente aiutano il sistema o quello che noi chiamiamo il Safety Service a operare in maniera coordinata all'interno di ciascuna di queste funzioni. Ricordiamo sempre che è importantissimo dire che il Safety Management System non ha la funzione esecutiva. La funzione esecutiva deve essere sempre rimandata alla parte operativa della funzione. E quindi è importantissimo questo processo di creazione, di sinergia tra chi crea e identifica il rischio e lo gestisce a chi poi alla fine deve mettere in atto le azioni mitiganti. E questo è un altro aspetto su cui stiamo lavorando molto fortemente. Chiaramente nel momento in cui abbiamo cominciato a mettere in piedi di questa attività, la prima cosa che ci siamo chiesti è di quali strumenti vogliamo dotarci. Sicuramente, come ho cercato di spiegare, la realtà è estremamente complessa e ci serviva uno strumento che la armonizzasse. Quindi il primo strumento che abbiamo creato è quello che noi abbiamo chiamato l'Aviation Safety Management System Manual, che è uno strumento di uso generale in cui abbiamo cercato di definire tutti gli aspetti e tutte le procedure, tutte le regole che vogliamo attuare in ciascuno dei nostri SMS decentrati, chiamiamoli così. Quindi regole comuni pur preservando le peculiarità che saranno necessarie e importanti all'interno di ciascuno di questi local SMS, come li abbiamo chiamati noi. Il documento è molto articolato, molto complesso e sono particolarmente soddisfatto di quattro aree, tre aree di questo documento. La prima, che è una sezione introduttiva, che esula un po' da quello che è il contesto fissato dall'IKEO per questo tipo di documentazione. È una sezione zero, così l'abbiamo denominata, in cui abbiamo cercato di dire le ragioni per cui queste scelte sono state operate e la strategia di implementazione degli SMS in azienda. e la sezione uno, pur essendo allineata a quello che IKEO ci chiede di sviluppare, quindi contenente sia le safety policies che gli objectives di questi safety management system, è molto dettagliata proprio perché abbiamo voluto in questa rappresentare la modalità operativa che ci siamo dati. Sono invece particolarmente soddisfatto e orgoglioso, lasciatemi dire anche questa, usare questa parola, della parte di appendici che abbiamo creato, perché proprio perché questo documento voleva essere divulgativo e di uso anche educativo dei sistemi, abbiamo creato una serie di dieci appendici nelle quali ogni singolo aspetto del safety management system, dell'implementazione del safety management system e degli strumenti che ogni safety management system si deve dare sono state dettagliate e esplicitate in checklist con cui chiunque voglia mettere in piedi all'interno della nostra realtà Leonardo un safety management system può conformarsi per percorrere gli step e i passi necessari per arrivare a creare un sistema che sia conforme alle regole che vogliamo darci. Tra questi appendici, come vedete, abbiamo dato enfasi anche alla creazione della cultura, come diceva Fabio Nicolai qualche minuto fa, la cultura è parte integrante del safety management system, la divulgazione, la comunicazione e il promotion sono parti integranti dell'SMS, senza quelli non avremo mai la possibilità di creare un sistema che faccia esattamente quello che Carmela e Fabio ci dicevano, essere innestato nel tessuto di sicurezza delle nostre operazioni. Stiamo lavorando già da un anno in tutti i settori dell'azienda, quindi dalla production organization, alla design organization, la training academy aveva già un SMS assolutamente attivo e lo stiamo rinnovando per renderlo conforme ai principi che ci siamo espressi nella Aviation Safety Management System Manual e abbiamo già ottenuto, almeno all'esterno, delle certificazioni della Safety Management System interno alla nostra maintenance organization. Stiamo lavorando invece sulla continuous airworthiness, maintenance organization, la CAMO, insieme alle funzioni aziendali preposte a questo scopo. La nostra idea è di arrivare entro la fine di quest'anno 2021 con un sistema collaudato pronto per essere presentato quando sarà necessario alle autorità per una loro vidimazione e accettazione. Adesso entrerei un attimo nel dettaglio di quelli che sono gli strumenti di cui ci siamo dotati per lavorare con le varie funzioni perché abbiamo detto l'Aviation Safety Management System Manual dà delle regole generali ma ogni funzione aziendale ha poi necessità di sviluppare un suo Safety Management Manual che sia dedicato alle peculiarità di quella funzione e allo stesso modo ci siamo resi conto che nel momento stesso in cui si creava questo manuale dedicato che rispondeva in ogni caso a quelli che erano gli standard applicati dall'Aviation Safety Management System Manual quello generale veniva a crearsi la necessità di creare dei documenti di interfaccia che spiegassero esattamente alla funzione come interfacciarsi con la SSG quindi con la Safety System Governance e quindi abbiamo creato insieme ai manuali locali e a tutta la documentazione necessaria per ogni singolo SMS gap analysis ERP IRMS Matrix tutta la documentazione necessaria anche dei documenti di interfaccia che abbiamo chiamato Interface Management Documents SSG dove indichiamo tutte le responsabilità reciproche i punti di contatto i processi che devono essere interfacciati e sinergizzati tra la funzione primaria aziendale e la SSG che ha poi il compito di sintetizzare ciò che emerge dalla gestione quotidiana dell'SMS locale per portarlo fino all'attenzione del nostro Managing Director Entrando poi in dettaglio a quello che è uno degli aspetti che abbiamo toccato precedentemente ascoltando Fabio e Carmela è proprio l'interfaccia con la DO la Design Organization perché come è stato giustamente ricordato la Design Organization e quindi il Design Assurance System dell'azienda ha già delle procedure molto robuste e forti per gestire la continuous eyeworthiness o la continuous eyeworthiness dei nostri prodotti ma come Carmela e Fabio ci hanno ricordato un prodotto fully compliant non è per natura sicuro quindi il problema è che la parte di Design Assurance esplora il vertice di questa piramide cioè esplora accadimenti già avvenuti e quindi un atteggiamento lasciatemelo dire con parole un po' magari violente reattivo non proattivo e quindi inserire questa proattività all'interno di un processo robusto e assolutamente consolidato di gestione delle problematiche aeronautiche è il passo che stiamo adesso compiendo con la nostra Design Organization e quindi andare a esplorare tutta quella parte della piramide degli incidenti che tutto sommato oggi è un po' in secondo piano quindi tutto quel mondo di unsafe behavior di near missing di minor accidents che oggi passa in secondo tono perché è non completamente esplorato e per fare questo ovviamente dobbiamo assolutamente rinforzare il nostro sistema di occurrence reporting perché dobbiamo migliorarne la qualità in termini di dati registrati migliorare la affidabilità dei dati registrati e migliorare la capacità di analizzarli di estrarre con un data mining dedicato da questi dati le informazioni che ci servono per detectare quelli che io amo molto chiamare i weak signals quindi i segnali deboli che il sistema nel suo funzionamento ci sta comunque dando quindi nella mettere a punto il sistema di gestione della sicurezza della Doha che quindi compendierà completamente quello che e complementerà completamente quello che è il sistema di airworthiness ci siamo spinti a definire un sistema di raccolta delle informazioni innovativo e molto molto capillare in modo da granularizzare il più possibile la scelta delle informazioni e renderla più possibile se volete catalogare catalogata quindi avere informazioni che possono essere trattate e analizzate in maniera diretta abbiamo quindi cominciato a creare quella che chiamiamo l'app per i voluntary operations reporting quindi uno strumento digitale che sarà caricato sui telefonini o sarà disponibile in stazioni dedicate in azienda in cui chiunque possa con accedendo a questo modulo informatico e informatizzato compilare un voluntary reporting compilarlo utilizzando campi già pre compilati in modo che la classificazione dell'informazione sia la più rapida e la più conforme possibile ovviamente questo sistema ci permetterà di mantenere la confidenzialità e l'anonimità della persona che voglia comunicare come previsto dalla norma qualunque occorrenza al nostro sistema e ci permetterà anche di cominciare un processo di automatic feedback che sappiamo è essenziale cioè il feedback è una delle parti vitali del funzionamento di un safety management system ma l'importanza di questo sistema automatizzato tra virgolette sarà quella di permetterci l'aggregazione rapida dei dati e l'analisi rapida dei dati in modo da poter rapidamente fare le analisi statistiche che Fabio ci ricordava sono così importanti e che comunque anche da noi richiedono la presenza di specialisti che dobbiamo formare l'altra cosa importantissima che stiamo facendo adesso è andare a granularizzare le informazioni che riceviamo dal servizio abbiamo milioni di megabytes di dati nei nostri sistemi informatici aziendali di occurrence reporting dal servizio ci siamo chiesti come facciamo da questi dati a ottenere informazioni ancora più precise rispetto a quelle che oggi siamo in grado di sintetizzare e per fare questo abbiamo utilizzato il sistema di digitalizzazione il progetto di digitalizzazione dell'azienda che è in corso e nell'ambito di questo progetto abbiamo creato delle maschere di interfaccia con queste popolazioni di dati che ci permettono di estrarre informazioni su per esempio le parti critiche perché non è detto che tutti gli inconvenienti che una parte critica soffre nel suo esercizio siano legati alla sicurezza ma potrebbero anche indicare comunque che la parte non è utilizzata come noi pensavamo che fosse utilizzata o che la comprensione che gli operatori hanno di quella parte non sia conforme a quello che invece è il nostro criterio di progetto quindi esplorando il database dell'eoccurso reporting magari utilizzando appunto il discriminante della parte critica noi siamo in grado di estrarre tutti gli accadimenti che hanno coinvolto un componente di un elicottero di una flotta di elicotteri per definire dei trend nel tempo che ci permettono di capire se qualche segnale importante di utilizzo di parti critiche principalmente quelle relative alla sicurezza del volo ci può segnalare che qualcosa non sta andando come abbiamo previsto nelle nostre fasi di progetto e ovviamente su questo noi siamo in grado di cominciare tutta una serie di attività di miglioramento e mitigazione che oltre all'Airboarding esportano a quello che noi chiamiamo ovviamente il product improvement e al continuous improving delle nostre macchine allo stesso modo stiamo cercando di uniformare e di standardizzare l'identificazione dei difetti che l'uso comporta sulle nostre parti abbiamo notato che molte volte i campi che venivano compilati nell'analisi per esempio del reperendo vero dei nostri componenti meccanici erano gestiti in maniera diciamo differente a seconda di chi fosse l'operatore che eseguiva l'analisi e molto probabilmente anche certe difettologie erano confuse o erano anche trattate in maniera diversa da diversi operatori quindi abbiamo creato un software dedicato alla maintenance repair and over all delle nostre trasmissioni per standardizzare la definizione di quelli che sono i difetti che vengono riscontrati durante l'overall delle nostre trasmissioni in modo da rendere il processo il più standardizzato possibile e raccogliere da questo processo in maniera assolutamente trasparente e univoca le informazioni che ci servono a definire eventuali azioni mitiganti o migliorie di progetto quindi tutto questo sta nell'ottica di cogliere dal sistema che sta già funzionando messaggi che fino a ieri erano diciamo presenti ma magari non trattati nella maniera in cui oggi siamo in grado di trattare oltre a questo ovviamente noi stiamo come safety governance stiamo spingendo alla introduzione in azienda di importanti iniziative di safety mi piace elencarne alcune darvi esempio di quello che stiamo facendo per migliorare la concezione e la percezione della safety a livello di azienda nella sua globalità per esempio stiamo lavorando molto sul distance learning vedremo qualche esempio ovviamente siamo pienamente partecipi all'attività EASA di EPAS di European Plan for Aviation Safety e abbiamo alcune iniziative interne di cui SSG è stata promotrice che secondo me sono di estrema importanza e che possono veramente anche in un'ottica futura cambiare il modo in cui gli elicotteri verranno operati in piena sicurezza due parole sulla distance learning questa pandemia ha comunque cambiato completamente il modo di concepire anche come giustamente veniva detto precedentemente dagli illustri interlocutori che mi hanno preceduto il modo di rapportarci con i nostri clienti e di portare il training ai nostri clienti visto che i nostri clienti non potevano per un certo periodo di tempo avvicinarsi alla nostra training academy quindi abbiamo messo in piedi un sistema di safety webinars con cui abbiamo cercato di trasportare le informazioni di sicurezza verso i nostri clienti con dei corsi dedicati agli aspetti di sicurezza ma anche alle best practice nell'utilizzo dei nostri velivoli alla situational awareness e al decision making abbiamo creato delle piattaforme interdisciplinari e interfacciate con cui trasmettere e portare questi messaggi al nostro cliente in maniera interattiva ogni corso è stato previsto nella lingua del paese in cui veniva erogato e diciamo moderato e tenuto da piloti o da manutentori che erano assolutamente di madrelingua nel paese dove portavamo questa informazione proprio perché il fatto di non essere in presenza riduce molto la possibilità di comunicazione quindi era importantissimo che non ci fossero incomprensioni o misleading nelle informazioni che volevamo trasferire abbiamo raggiunto nell'anno di pandemia più di cento piloti e manutentori dei nostri operatori abbiamo coinvolto decine di operatori in quattro paesi esternamente importanti nella nostra sfera di influenza per la training academy il Brasile il Messico il Cile la Malesi e quindi abbiamo erogato questi corsi che ovviamente oggi sono stati registrati e sono in piena disponibilità dei nostri clienti per un recursive training qualora fosse necessario e da loro richiesta ovviamente insieme a questo abbiamo sviluppato anche una serie di corsi dedicati ai manutentori in cui seguiamo con una specie di virtual reality ciascuna delle operazioni di manutenzione delle nostre macchine in pieno supporto a chi le sta eseguendo in viva se volete partecipazione in video un nostro manutentore si affianca ai manutentori del cliente monitorando con lui le attività che vengono svolte indicandogli i documenti o le operazioni da svolgere e guidandolo passo passo nell'attività che sta svolgendo questo grazie alle tecnologie che ovviamente sono emerse nell'ambito di EPAS poi noi abbiamo messo a punto quello che è il safety website di Leonardo Delicotteri e l'abbiamo ovviamente portato al primo livello all'interno della struttura del sito di Leonardo in modo che sia facilmente accessibile ed è stato diviso in quattro main areas che abbiamo denominato safety by organization by design by cooperation and promotion and by customer support and training training per me è la parte vitale di qualunque safety management system e sicuramente le attività che potremo fare nella training sono di un'estrema importanza nel futuro ovviamente questo sito ha nella nostra visione la possibilità o la la capacità di evidenziare e di rendere visibili le numerose attività di safety che stiamo portando avanti nell'azienda di renderle evidenti a tutti coloro che vogliono accedere a questo sito e all'interno di questo sito a parte tutto quello che abbiamo indicato relativo alle quattro branchi principali in cui dividiamo la gestione della safety in azienda ovviamente porremo tutta la documentazione disponibile che prepareremo in modo che chiunque possa accedersi e scaricarla e avere informazioni questo sito è live da questo mese da maggio del 2021 ed è quindi già da oggi pienamente funzionante nell'ambito di questo sito molto velocemente noi porremo come vi ho detto documentazione informativa sulle iniziative di safety e abbiamo anche catalogato come vogliamo distribuire queste informazioni abbiamo creato una tipologia di documenti e le abbiamo identificate con dei nomi e con dei formati grafici dedicati in modo che sia facilmente riconoscibile ad occhio da chiunque voglia accedere a queste informazioni e con queste tre tipologie di documenti le safety notice le safety letters e il safety pamphlet cerchiamo di distribuire informazioni su tutte le tipologie di uso delle nostre macchine quindi dedicate alla diffusione delle raccomandazioni di un uso sicuro delle nostre macchine o addirittura nei safety pamphlet alla divulgazione anche quasi fisica basica delle competenze che è necessario avere per gestire una macchina che diventa sempre più complessa come un elicottero di ultima generazione e ovviamente a non interessa molto in questo ambito definire quali sono le funzioni le capacità che i nostri operatori devono conoscere per gestire tutta la strumentazione che a bordo abbiamo come per esempio gli OPLS quindi gli Obstacle Prossimity LiDAR Systems quindi sistemi che aiutano a definire la prossimità di ostacoli o i nuovi sistemi AMS o i nuovi sistemi H-TOS che abbiamo creato e installato a bordo dei nostri velivoli stiamo poi seguendo delle attività sempre in ambito EPAS per aiutare i nostri operatori per esempio una delle cose molto importanti che stiamo cercando di portare avanti è di inserire sui nostri display da bordo dei nostri velivoli le mappe del soccorso alpino e speriologico nazionale mappe non certificate a DO200 ma mappe estremamente utili agli operatori in montagna perché hanno un database degli ostacoli estremamente sofisticato e aggiornato quindi questo come iniziativa di SEFETI per aiutare i nostri operatori nel svolgere in sicurezza la loro missione abbiamo già fatto delle prove di installazione di questo sistema sui nostri velivoli 169 e 139 con ottimo successo e pensiamo di portare avanti no hazard l'installazione di questi sistemi per migliorare l'operatività e la sicurezza delle operazioni in alta montagna dei nostri velivoli un'altra iniziativa di cui sono particolarmente orgoglioso è quella di promuovere l'utilizzo della performance made navigation nei nostri velivoli questo viene da lontano nel senso che noi abbiamo individuato già da molto tempo una strategia una visione di Leonardo per quello che potrebbe essere il long term certificate path basato sullo sviluppo e sul utilizzo delle tecnologie emergenti soprattutto in campo elicotteristico della performance based navigation già da tempo tutti i nostri velivoli installano sistemi di autopilota e di sensoristica assolutamente compliant con le più stringenti norme di navigazione e di air traffic management e conformi allo standard RNP03 stiamo lavorando sullo standard RNP01 adesso con il 169 come nell'ambito di questa strategia noi abbiamo sviluppato il nostro fly management system a bordo delle macchine e unico costruttore aeronautico elicotteristico siamo certificati come Air Navigation Data Provider quindi noi possiamo preparare e installare sui nostri fly management system il nostro navigation data package e come è stato pubblicizzato alla fine dell'anno scorso abbiamo anche siglato con ENAV un rapporto di collaborazione proprio per essere pronti visto che ENAV è l'Air Navigation Service Provider italiano che è autorizzato al disegno e alla validazione delle rotte PBN proprio per essere pronti a offrire non solo il prodotto elicotteristico al nostro cliente ma anche il prodotto elicotteristico più la capacità operativa che è conforme alle sue esigenze questo per migliorare drammaticamente la safety l'efficacia e l'effettiva e l'effectiveness delle missioni dei nostri prodotti questo anche per migliorare ovviamente il servizio AMS che sicuramente molte volte è oggi limitato dalle condizioni meteorologiche o di climatiche o orografiche in cui viene ad essere operato e sappiamo quali gravissimi inconvenienti abbiamo avuto nel passato e quindi aiutare questo sistema a effettuare in ogni caso la sua missione è di grandissima importanza per noi perché qualunque missione life critical è in ogni caso una missione legata alla safety per i nostri prodotti quindi la strategia globale di Leonardo parte dai prodotti dalla training academy che è in grado di fornire servizi di training avanzato anche per tutto il mondo PBM alla validazione alla validazione delle rotte di cui noi possiamo fornire un supporto completo non solo agli operatori ma anche ai governi e alle azioni che volessero creare questa infrastruttura e siamo pronti ad offrirlo alla capacità di nutrire i nostri sistemi di bordo con quello che il nostro sistema di acquisizione di dati ci permette di creare per quanto riguarda la parte di Air Navigation Data System ultimo spero di non avervi annoiato enormemente stiamo veramente cercando di utilizzare tutte le nuove tecnologie che stanno emergendo quindi quelle che sono oggi conosciute come Artificial Intelligence Big Data Analysis Data Mining Machine Learning tutte queste tecnologie ci stanno offrendo la possibilità di analizzare trattare e maneggiare basi di dati estremamente elevate e complesse che oggi non sarebbero state esplorabili con gli sistemi che abbiamo a bordo per esempio quindi noi stiamo cercando oggi di mettere a punto un sistema che grazie all'intelligenza artificiale e alle routine di analisi dei Big Data permettano di esplorare i dati AMS che sono decine di Gigabyte raccolti dai nostri sistemi a bordo dei nostri velivoli per estrarre da questi dati combinazioni di parametri indipendenti che siano relazionabili alle manovre che queste macchine hanno percorso nella loro vita confrontando queste manovre con lo spettro di progetto delle nostre macchine noi siamo in grado di calcolare per esempio la vita consumata di ogni componente critico a bordo dei nostri velivoli e quindi eventualmente correre ai ripari sostituendo componenti che avessero raggiunto un utilizzo di vita magari maggiore di quello che era preventivato all'origine o anche aiutando i nostri clienti a ridurre i costi operativi mantenendo in servizio parti che non hanno grazie a questi sistemi dimostrato di aver raggiunto il limite di vita di progetto abbiamo già un sistema perfettamente funzionante e brevettato di questa nuova tecnologia e con questa noi siamo in grado di esplorare i dati AMS quindi di Health and User Monitoring System di tutta una flotta o di ogni singolo velivolo di quella flotta e l'accuracy che abbiamo ottenuto l'accuratezza che abbiamo ottenuto da questi sistemi oggi è vicina al 97% questo ci fa veramente ben sperare che questo sia veramente un primo seme per lanciare un condition based maintenance nel mondo elicotteristico lasciatemi concludere con un messaggio che è poi quello che sia Carmela che Fabio ci hanno dato all'inizio tutto questo sarà fattibile solo se saremo in grado di lavorare insieme se questa community è estremamente ampia anche grazie a questa nuova filosofia della introduzione del Safety Management System sarà in grado di trovare regole operative nuove che ci permettono di comunicare quindi servirà un approccio completamente innovativo e open mind a questo nuovo sistema uno spirito che quindi sarà assolutamente legato alla frase Safety First e senza questo atteggiamento proattivo e questo atteggiamento comune ovviamente tutto quello che abbiamo detto rimarrà comunque un sogno e rimarrà nei cassetti dei progettisti vi ringrazio moltissimo per l'attenzione spero di non avervi annoiato e di aver passato il messaggio importante di come stiamo cercando di lavorare oggi il Leonardo Delicotteri grazie grazie a lei ingegnere ingegnere non ci ha annoiato per niente